Oggi andiamo a vedere una build super super mega economica da poter fare adesso La build in questione non è una build da gaming, lo dico subito È una build quasi con il botto perché andremo a vedere dei componenti abbastanza discutibili Però è una build super super economica e in realtà potrebbe avere un senso E adesso andremo a vedere il perché Partiamo subito con il primo componente della nostra build Che è questo cooler master, fra l'altro uno dei componenti migliori che vedrete in questa build Case molto carino, micro ATX Lo portiamo a casa a una cifra di 53€ Al momento anche abbastanza buona perché era riaumentato nell'ultimo periodo Mi sa che era arrivato quasi a 60€ Case in generale che ci dà una base decente, minimo, indispensabile per poter creare la nostra build Secondo componente della nostra build è questa scheda madre di MSI Per la precisione è un H510M-A Pro Pro Scheda micro ATX che sarà la base del nostro PC Scheda che non ha nulla di eccezionale Però riuscirà a supportare il nostro processore che sarà un Intel Processore che andiamo a montare nella nostra build sarà questo i3-10105 con grafica integrata Nello specifico è UHD 630 la grafica integrata di questo processore Processore che non è niente di che però ce lo portiamo a casa alla modesta cifra di 108€ Le RAM andremo a montare questi due banchi da 8GB per un totale di 16 a una frequenza di 3000MHz Queste Ballistics che al momento si trovano sempre a 52€ Roba fenomenale quindi anche questo componente che alla fine non dispiace per niente Anzi come il Case è uno dei componenti abbastanza validi, veramente validi questa build Passiamo al tallone d'Achille di questa configurazione che è l'alimentatore L'alimentatore meno costoso in assoluto e con il rischio che potrebbe esplodervi Perché ve lo dico potrebbe esplodere Comunque è un 80 Plus Bronze di Mars Gaming Non è proprio un alimentatore da consigliare però in questo caso facciamo questa build proprio economica E meno di questo non riusciamo veramente a trovare perché se scendiamo questi prezzi L'alimentatore veramente siamo sicuri che scoppi Qui abbiamo una piccola possibilità che l'alimentatore regga Comunque in generale facciamo questa scelta come ho detto solo e sicuramente per il prezzo molto molto basso Alla fine arriviamo all'ultimo componente, questo NVMe da 250GB che si chiama Intenso Intenso che sembra più una marca di caffè che un NVMe Quindi abbastanza discutibile però vabbè un 250GB ce lo portiamo a casa Ha la modica cifra di 31€ quindi non facciamo troppe domande Teniamoci questo Intenso e speriamo incrociamo le dita Nel complesso la build ci viene a costare solamente 352€ Quindi siamo sui 350€ Molto molto interessante Naturalmente non è una build da gaming come ho specificato all'inizio Però in realtà potrebbe avere senso perché se state cercando un computer da casa E volete spendere veramente poco e avere però comunque a livello estetico un PC gradevole Potrebbe essere un'opzione valida comunque da tenere in considerazione Visto che se andiamo a comprare un computer con le stesse caratteristiche anzi leggermente inferiori Ad esempio andiamo sul sito di 1€ e troviamo questo PC qui del costo di 500€ Che praticamente monta gli stessi componenti che andiamo a montare noi Monta il nostro stesso identico processore con la stessa naturalmente grafia integrata 8GB di RAM noi in realtà ne montiamo 16 quindi addirittura miglioriamo rispetto alla RAM di questo PC Quindi in confronto a prendere un PC del genere molto molto basic standard Un cassone quasi direi Ha la cifra di 500€ Se ce lo facciamo da noi con 350 ce lo portiamo a casa E abbiamo un PC casalingo per poter navigare su internet Per poter fare la DAD Perché magari siete studenti e avete bisogno di un computer Solo perché vi serve a livello scolastico o per ricerche o cose abbastanza basic Questa build ha un senso Che poi fra l'altro qualche giochino lo possiamo anche far girare Perché per esempio se voi giocate a League of Legends Questo computer League of Legends lo fa girare Non è un problema Potrebbe addirittura farvi girare anche Minecraft Quindi giochi che non richiedono particolari caratteristiche grafiche Quindi giochettini così Naturalmente il tutto va analizzato un pochino più nel profondo Però comunque giochi proprio base magari ve le tira anche Sempre stando attenti però comunque all'alimentatore Quindi non sovraccaricare troppo l'alimentatore Quindi magari giochicchiata qualche piccolo giochino Che non richiede tanto sforzo Però naturalmente non ci giocate per 8 ore filate Perché potrebbe effettivamente bruciare il computer Quindi in generale PC super mega economico Super mega low cost Build che va bene che non è un PC da gaming Però potrebbe essere un PC che ha un senso Quindi creare una configurazione del genere potrebbe anche avere senso Perché come ho detto ora Se dovete andarvi a comprare un PC del genere Spendere 500 Risparmiate 150 euro e vi prendete un PC Con le stesse caratteristiche Anzi con una RAM superiore E un case E in generale una build molto più bella visivamente E quindi alla fine potrebbe avere il suo senso E niente ragazzoni Il video ci sono crude qui Era così per farvi vedere questa build super mega economica Che potete creare Naturalmente poi potete anche benissimo cambiare case O cambiare qualche componente Se riuscite a trovare componenti abbastanza decenti A un prezzo inferiore a questo Comunque fare meglio di così al momento è abbastanza difficile Noi ci vediamo alla prossima Mi raccomando iscrivetevi al canale Ciao ciao